Signori Signori Andiamo con un grande siano benvenuti O intanto su Marvel Avengers E siamo arrivati qua Alias Morales Mesami Dicono Bene E facciamolo subito Bene Incarichi di fazioni Incarichi di fazioni Ti conferiscono esperienza di fazioni Tenendola abbastanza potrai aumentare il tuo grado fazione Accedendo a ricompense Ed equipaggiamenti di grado superiore Dai mercati di quella fazione Mercanti Non mercati, mercanti Il risveglio Dei morti Ci sono delle interferenze in questa situazione Aiuto lo shield a eliminare la minaccia Potremmo quasi Policore Risorse Sapevo che potevamo contare su di te Ma si dai lo facciamo Dai Che c'è Mica scende Fra quanto posso farlo No Non deve Non è così vero Premia Per accettare l'incarico Ho già premuto A Ci aiuterai Davvero Questo cambia veramente tutto Non so che cosa Non so che Signore Un nuovo rappresentante dello shield Si è unito a noi È nell'area comune Non credo che Dovessi fare così Però va bene Va bene così amici Va bene così Va bene così È di qua Questa non credo sia l'area comune Mercante elementi estetici Vabbè sinceramente non me ne frega un cazzo Sinceramente Però La gente Levin è nell'hangar Se ha un momento Probabilmente potrà aiutarla a potenziare il suo equipaggiamento Bene Sempre sotto Perché sta nave è così grossa e non posso volare Come avrei fatto Come avrebbe fatto Iron Man Direi Anzi Anzi Senza troppi problemi Oh ma là c'è una cassa Per qual motivo non ce l'ho ancora Intanto l'eli Questo è un equipaggiamento speciale da quello che vedo eh Guantoni Eh gli do il giro eh Quello che adesso Però Obiettivi Ah già A me non mi interessa molto E adesso questa roba qua Aspetta ricompensa E' un equipaggiamento specifico per l'eroe È interessante Ma magari poi la farò io Senza Troppi problemi Io sono qua più caldo per la campagna eh Se hai bisogno di me Mercante Guadagno spazio e guadagno spazio di fazione per aumentare il grado fazione Ah vedi Eh sì Questa sarebbe interessante eh Iron Man La nostra amica Eh 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 Ce n'è di roba qua eh Interessante Molto interessante Mi impegnerò di più per farti trovare quello che ti serve la prossima Signore le scansioni termiche hanno rilevato due potenziali fonti di nuclei di avviamento Bene Potenziali? Perché potenziali? Uh Purtroppo a causa dei sistemi di sicurezza dell'AIM È impossibile determinare con esattezza le fonti di calore da questa distanza Ah Ah ho capito Ok Raddoppieremo le probabilità Bruce Kamala Raggiungetevi al tavolo strategico Arriviamo A cannone Io se devo usare qualcuno userò Kamala eh Ve lo dico Sta nave enorme Senza il segnalino è finita eh Per me è finita È più di 5 minuti che mi camminiamo È pieno di casse qua Qua è pieno di casse Reattore Che cazzo è sta Bene Tavolo strategico Acquisizione Gestione delle difficoltà Alcune emissioni della campagna Potevano rinanziamenti Troppo impegnativi In questi casi potenzia gli oggetti La difficoltà Dobbiamo fare C'è anche un'altra roba qua? No Dobbiamo fare Questo qua Costa orientale C'è questo qua Di difesa O c'è lui Equipmento raro Superiore Bene Chissà se posso scegliere Kamala O devo per forza Tenermi Iron Man Eh Starei curioso Già Si Ah sono robot morti Bene Troveremo dei nuclei di avviamento Si Non ci sono i sottotitoli Per questo pezzo qua Ma va bene così Va bene Tengo premuto Per cosa? Javis Quanto manca? Ci stiamo avvicinando al luogo Signore Ah non mi fa scegliere Altra roba Dobbiamo trovare i nuclei Di avviamento Non mi fa scegliere Altra Usiamo Iron Man Allora dai Usiamo Iron Man Su È affascinante Signore Molto affascinante Puoi dirlo Forte Quindi Solo contro M13 Meno 0 Non so cosa voglio dire Missione campagna Difficoltà Mi ha messo una bella campagna Normale Senza esagerare Deve essere qualcosa Di grosso Con tanta roba Da vedere Se ci sta mettendo Così tanto a caricare 1 2080 Ti Eh Ai 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 Ah Deposito dell'inventario Non ho niente Interessante Anche questa Dai Ci siamo Oh Dove sono tutti Aiem Sembra che l'Aiem Abbia evacuato La città A causa Della presenza Di inumani Ah Eh anche Quattrocento metri Quattrocento metri Ci posso provare Anche aiutare lui C'è qualcun altro Nelle vicinanze Civili L'evacuazione Iniziata Stamattina Bene Stavolta Non possiamo permettere Che qualcuno Si faccia male Però c'è un bel casino Cercate un baule Con dell'equipaggiamento Nelle vicinanze C'è un baule Con dell'equipaggiamento Nelle vicinanze Nelle vicinanze C'è un'unità D'elite Aiem Ah bene La sconfiggente Potreste ricavarne Qualcosa di utile Iso blu Ah l'iso blu Me l'ha equipaggiato Già Aumentare l'unità Di carica Dalla mossa eroica Bene Eh lo sapevo Che finiva male E voglio solo Ricoperare questo E' una grande eh C'è qualcosa Che la Yeme Non mi ha rubato Eh no Bombe Ma cioè Dai L'avevo visto Però Su C'è un baule Con delle risorse speciali Nelle vicinanze Dov'è? Dov'è? Dove sono le risorse speciali? Potrebbe essere lui Potrebbe essere lui Potrebbe essere Poteva essere Guarda voglio proprio vedere Cosa c'è a 150 metri Non posso andare Un po' più forte Rilevo diversi nemici Nelle vicinanze Del laboratorio E' lui Faccia attenzione Quando si avvicina Beh Jarvis Non possiamo essere sicuri Che siano nemici Cazzate Non ci sparano contro Molto interessante Molto Piastre Tutte schifezze Sto trovando Ma è incredibile Oh Oddio Un bel potenziamento Difeso Interessante Questo invece Che parare gli attacchi Mi porti nel raggio Mi porti nel raggio d'azione Della centralina d'accesso Abbastanza lungo E dovrei riuscire a farci entrare Tenga le unità IM fuori portata O riusciranno a bloccarci Sì Faccio anche danni gamma Io Vi ricordo Quel problema Quale il problema Ok Ok Un problema Ho superato il primo Firewall Bene Oh porca Oh porca Oh Ci sono quasi Dai Dai Oddio Ma che Oh Ok Ok A posto Che devo fare Che devo fare Ah Posto posto Rotto Signore Ora che sono I sistemi di sicurezza Della IM È stato difficile Eh Le rilevazioni delle tracce Ah Il livello è aumentato Allora Il equipaggiamento Ma ha trovato una cosa Scusami No Allora Che cazzo mi chiedi Allora Prima Prima Dopo Scatto Per non puntare Sparare Facciamo giù Questa della combo Avevamo Avevamo due puntabilità Addirittura Un'unicare una fonte energetica Molto superiore Quindi Niente nuclei di avviamento Difficile dirlo Ma la nostra intrusione Ha avviato una sequenza Di autodistruzione Bene Basandomi Sull'intensità Delle rilevazioni termiche Fammi indovinare Potrebbe demolire Diversi isopati Corretto Signore Bene Bene Che devo fare Accariamo tutto Zio Che succede Un ascensore Aia Ok Vediamo un po' Che cosa abbiamo qui Allora Jarvis Quanto profondo Quanto profondo Eh Quanto Voglio proprio sapere Quanto Quanti Migliaia di chilometri And Va Sì Ciao Eh Ok Grazie signore Grazie Eh Si aspetti Che sia ben protetta Niente strisciolini Benvenuto Ricevuto Ok Posto Do Do Eh sì Dai Pensa Pensa Tengo premuto Oh È un po' Vibrante È un po' Vibrante È un po' Vibrante Questo qua Grosso Però All'inizio Solo Adesso va meglio Ha detto Ha detto solo No Noi poi Non siamo mai Arrivati Chi è Non ne ha detto Niente Però Va bene Facciamo andare Bene lo stesso Su su Signore I reattori Sono sempre più Instabili Deve Disattivarli L'unico Modo Per Eterlarli È distruggere Quegli Amplificatori Easy Easy Si 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 Tutti i nuclei? Mancano ancora diversi nuclei, signore. Sì. Un ottimo lavoro. Ogni dato sarebbe molto gratuito. Bene. Quanto durerà sta armatura maledetta? Ottimo lavoro, signore. Visto, era così difficile? Un po', vero? Spero. Perché è bella forte, eh? Ok. È indistruttibile sta roba. Ok, vai. Vai così. Sì. Andata. Facile. Easy. Oh, già. È qualcosa che pensavo avresti mai detto. Recuperiamo il possibile e andiamocene. Si sente bene? Sì. Sì, ma... Avevo fatto tutto a fin di bene. O così mi ero detto. È stato un disastro. Il creatore a Terrigan, lei dei. E ora questo. Sì. Eh, ha ragione, è vero. Ma non so come viene usata la mia tecnologia, ma ne sono comunque responsabile. Sono fiero di lei. Già. Lo sono anch'io. Via. A proposito di questo, Bruce, Kamala? Le mie candele? Ehm... Ci stiamo lavorando. Eh, c'è scritto ok. Ma lo facciamo andare bene. Credo che sia finita la missione, oppure ci buttano direttamente da Kamala. Non so cosa sia successo. Non so cosa sia successo. Tony, sono ore che cerchiamo. Sì. Ma... C'è un'area che abbiamo evitato. Ci stiamo andando ora. È piena di forze dell'AIM. Dovrò richiamare il bestione. Ah... Bene. Bene. Bene, molto bene. Bene. Ok, ragazzi. Conto su di voi per quella traccia termica. Con un po' di fortuna recupereremo dei nuclei di avviamento. Presto l'AIM individuerà la posizione della chimera. Senza una base operativa... Beh, non avremo molte speranze. No. Giusto. Quindi... Non deludetemi. E... Buona fortuna. Che scena che fa lei. Ehm... Una bella responsabilità. No, eh... Beh, in effetti... Ok. Non devo deludere il signor Stark. Jarvis... Da dove inizio? Eh, è molto agile. Mi piace tantissimo. Ad diversi punti intorno a un grosso nucleo centrale. Il che suggerisce una concentrazione di potenziali nuclei di avviamento. Dovrebbero essere in un unico luogo. Qua ci deve essere qualcosa. D'accordo. Cercate un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze. Sì, sì. ISO 8 giallo. Valutazione di difesa. Valutazione di difesa. Super... Ah. Eh. Eh. Ma porca puttana. Ah, le ha messi tutte e due. Per di niente. Martino con 42. Qui tutto libero. Mi piace troppo lei. Lei mi piace tantissimo. Eh. Eh. Ho già visto quel simbolo. Eh. Bella madonna. In onore di coloro che si sono sacrificati. La mia stessa. Erano qui. Lo so, non è la nostra missione. Sì, sì. Bravo, Charlie. Interrompete le comunicazioni. Via. Bravissima. Bravissima. La zia Kami. Sì, signorina Khan. È... È una mia impressione. Hulk sembra diverso dal solito. Cosa vuole dire? Sembra che il dottor Banner fatichi ad accettare la morte del nostro amato capitano, signorina Khan. Dai suoi appunti è tornato sulla chimera per sistemare gli eventi delle idee. Ok. Eh. È divenuto sempre più frustrato per quelli che reputa suoi fallimenti. Ah. Vedi che ci senti. Come tutti, signorina Khan. Toh. Toh. È andata piuttosto bene secondo me. Dai. Dai. Perfetto. Dai. C'è un baule con delle risorse speciali nelle vicinanze. Ok. Via. Boom. Risorse speciali, eh. Risorse... Sì, vabbè. Salta forte sta qua. Parco giù da porco. Sì, vabbè. È stata un po' di merda, eh. Però... Ok. Nel dubbio. Magico. Voila. Eh... Devo andare di qua? Devo andare di qua? Io di qua non sono entrato. Scusa, io di qua non sono entrato. Vabbè. Posso essere neanche sbagliato, eh. Ho trovato un deposito nel settore 12. Ok. Vi state avvicinando ad altra attrezzatura AIM. Speriamo sia quello che ci serve. Ma guarda che belle le cose... Proprio come Star Wars, eh. Proprio come piace a me. Il gioco e piace a me sono fatti così. Bene o male, eh. Qua è tutto rotto però, zia. Eh... Ce ne aveva quattro questo qua, eh. Su l'interfaccia trova la posizione del prossimo nucleo. Quattro ne aveva. Quattro ne aveva, eh. Non è un... Chi è questo? Hanno un volo un po' particolare, eh, loro. Bene. La festa è te. Via, via! Ma pensa te! Beh, Hulk è stato efficace, eh. Ok. Dov'è? Il gioco ti è stato iniziatamente. Pensa a te! Pensa a te! Oh! Schifoso! 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 Via! E via! No! Non mi piace. Voglio valutazione di... l'altra io e questa al 12 potrebbe essere interessante ma no ok ok è una grana, è una grana, è una grana mi sta dando delle legnate a lei si cura così non riesco a prenderlo la madonna pulk puoi tirare su qualcosa e lanciarlo Gesù c'è nei liberi Gesù c'è nei liberi credo che abbia parlato di nuovo ma non funziona a questo punto abbiamo cercato ovunque nel deserto e non basterà sono sola scudemi cosa? dove sono gli altri inumani? perché non si stanno ribellando? io non lo so ho visto i simboli della resistenza, ho sentito voci di una ribellione ma ancora niente eh Kamala Kamala io non mi sento malata non mi sono mai sentita più viva poverina Kamala so come ci si sente questi poteri fanno parte di noi so solo che è molto meglio accettarli e basta ha ragione Bruce molto saggio l'amichetto Bruce o qualcosa del genere mio padre diceva la stessa cosa ma che maschera ha lei? scusami un tipo sveglio il migliore dobbiamo ma la barba Bruce? tornare alla chimera ok fermi dove siete e dai amico una ragazza e un vecchio un vecchio un vecchio ok Pim vi riceverà che? è Hank Pim incredibile ma l'altro ha preso e è andato no stai calmo è bello anche per me Kamala questo è Hank Pim Huntman quella ormai è acqua passata beh Huntman abbiamo trovato pensa a te quindi è questa la fonte termica che cercavamo abbiamo recuperato armi robot tecnologia IM il necessario per costruire le nostre difese potresti prestarci qualche nucleo di avviamento per aiutare un elivelivolo bisognoso di affetto immagino potremmo metterci d'accordo ti ringrazio molto che cos'è questo posto lo chiamiamo eh guarda non l'ho scelto io credo sia stato un nostro hacker un certo tiny dancer tiny dancer aspetta quindi quindi sono tutti inumani si molti erano prigionieri della guerra pensa te si sono ribellati davvero fate come a casa vostra dobbiamo parlare un po' ma che figata questo luogo è più di quanto immaginassi ma che figata però signori direi che lo sploreremo alla prossima puntata ci vediamo al prossimo video chica chong chica chong chica chong chica chong chica chica